buongiorno a tutti quanti benvenuti in questa consueta videoanalisi con le indicazioni operative oggi è il 16 novembre 2016 per chi non mi conoscesse io sono paolo peisino il fondatore del sito il trading per tutti punto com dove potrete trovare diverse e diciamo diversa formazione anche completamente gratuita come sempre veniamo al disclaimer molto importante gli investimenti con scambio margine comportano notevole rischi economici e chiunque gli svolga lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità pertanto l'autore della presente videoanalisi non si assume nessuna responsabilità circa eventuali danni diretti e indiretti relativamente decisioni di investimento prese dallo spettatore come l'abitudine andiamo a dare un'occhiata a quelle che sono le notizie macroeconomiche della giornata intanto approfitto per salutare Ligliana salutare Riccardo e anche Stefano che è appena entrato benvenuti allora per quanto riguarda la giornata odierna abbiamo questa mattina nel 10.30 un filotto tutto quanto sulla sterlina invece dei salari medi variazione delle richieste di sussidi di disoccupazione per il mese di ottobre e il tasso di disoccupazione per il mese di settembre poi abbiamo direttamente nel pomeriggio le notizie riguardanti gli USA quindi l'IPP mensile per quanto riguarda gli USA l'indice dei prezzi di produzione se non ricordo mai l'acronimo l'indice dei principali prezzi di produzione negli Stati Uniti poi il canadese vendita nel settore manufatturiero l'immancabile discorso di un membro in questo caso dell'MPC quindi inglese per la sterlina delle 15 e poi comunque la notizia che creerà più io credo movimento della giornata sarà le scorte di petrolio greggio poi fino alla sera con anche in questo caso l'immancabile discorso di un membro della FOMC perché ci vuole che tutti i giorni dica qualcosa in questo caso è Arker. Velocemente che cosa offre il trading per tutti guardiamo un attimo anche come siamo messi con la nostra equity sempre fermi al 64 e 34% in questo momento siamo short di New Zealand CAD con 192 pip di guadagno e ahimè il cable dopo adesso vedremo le porcherie di ieri sera alle 9 sostanzialmente ci ritroviamo con una perdita in questo momento di meno 57 pip per essere all'esattezza questo è il mio diario un diario che ha più di un anno di vita aperto il 19 di agosto 2015 ovviamente qua trovate tutte le mie operazioni sia quelle chiuse in guadagno che quelle chiuse in perdita vedo spesso volentieri che sui social vengono postate solo le operazioni in guadagno in realtà i trader perdono io per trasparenza da sempre da ormai anni condivido tutta la mia operatività qui potrete vedere proprio tutto quanto e tramite il blog potrete poi andare tranquillamente a vedere tutte quelle che sono le operazioni nel dettaglio spiegate quindi davvero un bel servizio anche a scopo didattico per cercare praticamente di osservare di vedere le mie operatività allora veniamo comunque all'analisi quotidiana codiamo questo che è il mio conto per le analisi io vi suggerisco anche se i broker non sono contenti di avere un conto reale dove fare le analisi a zero e se il broker non chiede soldi chiaramente per mantenere un conto a zero naturalmente e off come si dice perché questo permette di avere i prezzi comunque corretti soprattutto durante le news i movimenti dei prezzi sono corretti su un conto reale nessun demo sono tutti in ritardo e quindi non ne vale assolutamente la pena fare l'analisi sui prezzi sbagliati comunque veniamo a noi è evidente che euro dollaro è esattamente la fotocopia di ieri ok quindi i livelli dati ieri che sono stati comunque bucati e proprio il prezzo è rientrato quindi rimangono gli stessi direi che si possono andare a cercare occasioni al ribasso mancava eh il logo della lavagnetta che come sotto mi sono dimenticato di accendere dicevo posizione al ribasso con una rottura di 1.069.96 quindi di 1.070 le possiamo andare 0.070 a ricercare idem per quanto riguarda posizione al rialzo perché potremmo anche provare a lavorare un eventuale praticamente ennesimo momento di lateralità che potrebbe essere questo ok e quindi lo stesso livello di 1.070 lo possiamo utilizzare 1.070 come supporto per cercare posizioni al rialzo intanto saluto tutti quelli che sono entrati mi raccomando pollicione ragazzi e Giampiero no non sei l'unico che perde siamo in due io e te che perdiamo anche che prendiamo gli stop loss nel trading andiamo a vedere USDCAD il dollaro a palla questa mattina vedete che è partito veramente a a tutto andare per quanto riguarda USDCAD abbiamo una bella rottura di 1.34 e 47 quindi su questo livello in caso di suo ritesto potremmo cercare posizioni le alziste 1.34 e 47 infatti vedo che il mio 1.070 sta un po' affaticandosi posizionari basso beh le andrei a valutare o nuovamente con una rottura un rientro di 1.34 e 47 quindi lo stesso livello su cui ci troviamo adesso che anche poi il segnale più bello è il falso breakout secondo me oppure un altro short con una rottura di 1.34 e 22 quindi sostanzialmente questo livello qua 1.34 e 22 lo si potrebbe anche andare a utilizzare come livello per cercare posizioni a ribasso USDCAD come vi dicevo dollaro a palla qui invece sullo yen un attimino sta rallentando sta prendendo una piccola pausa non riesce ad arrivare a 109.70 che per me è un livello importante però a quanto pare hanno deciso di fermarsi prima comunque questo lo spostiamo meglio qua questo lo mettiamo qua la possiamo considerare un'area qui abbiamo diverse chiusure supporti scusatemi chiusure e aperture di mercato minimi quindi ci sta il livello su cui stiamo adesso su H1 possiamo utilizzare allora 109.42 sia per cercare operazione rialzo quindi una loro una rottura della resistenza di 109.42 anche se l'ideale sarebbe aspettare che è un po' più conveniente una rottura di 109.86 per essere sicuri quindi vado a inserire quello e invece per azione a ribasso naturalmente con la rottura in questo caso la tenuta di 109.42 qualora il prezzo non riuscisse a romperlo e venisse giù direttamente altre posizioni short qui vedete che è impossibile fare operatività a ribasso perché abbiamo praticamente livelli di supporto ogni 20 pip circa con candele che sono abbondantemente di 28 quindi impossibile trovare rischio di rendimento si silvan io su l'intraday lavoro solo scusamente con supporto di resistenza in realtà il mio trading si basa sull'analisi ciclica ok però in intraday è più che sufficiente lavorare solo su supporto di resistenza trading breve tutti con rischio di rendimento interessante ovviamente lo supporto di resistenza e trendline è il mio modo di operare questo qui per quanto riguarda invece gbp usd questa ve la devo fare vedere se qualcuno di voi ieri sera se l'ha persa ieri sera alle 9 meno un quarto il prezzo è riuscito a inventarsi questo movimento perché stavo guardando delle cose su internet l'ho visto con la cosa dell'occhio è riuscito è riuscito a inventarsi un movimento di 75 pipi in due minuti giusto le porcherie che che si stanno facendo sulla sterlina continuamente è qualcosa di fenomenale la sterlina in questo in questo momento anche stamattina non ho scherzato perché alle 7 altri 30 pipi sparati erano le 8 così volanti infatti ero stavo preparando la diretta ho visto quell'altro movimento i livelli sono praticamente li vedete quelli di ieri andiamo a dare comunque una pulita come da mia abitudine per cercare di avere sempre un grafico corretto il time frame che vedi qua e si con questo che offro gratuito tutte le mattine questi livelli qua sono i livelli che io che io trado né più né meno non sto tutto il giorno al computer normalmente al mattino tra dirette aggiornare i social queste cose trading non lo riesco mai a fare e faccio il trading alla sera ovviamente perché il mio trading è comunque multi day è quello che preferisco ed è anche quello che in assoluto è più profittevole sul lungo periodo però poi pomeriggio mi metto lì se trovo qualcosa me lo faccio ma tipo un trade al giorno quando lo faccio se non tutti i giorni basta e avanza non bisogna fare 15 trade al giorno o stare 15 ore davanti al monitor a cercare l'occasione della vita perché tanto non la dà il trading di sicuro quindi poi questa è la mia filosofia naturalmente allora per quanto riguarda gbp usd siamo proprio a cavallo di un livello che è assolutamente lavorabile più che un livello direi che potrebbe trattarsi di un'area quindi direi operazione a rialzo con la rottura di 1.24.94 quindi siamo molto vicini comunque al numero tondo per gli amanti dei numeri tondi e invece posizione a ribasso con la tenuta di 1.24.82 quindi il livello su cui ci troviamo adesso sostanzialmente per il long una rottura di questo genere e invece per lo short con la rottura con la tenuta di questo livello oppure un falso breakout per andare a rivedere poi livelli di 1.23.56 quindi minimi sostanzialmente fatti ieri verso la mattinata io sono ancora convinto che sia assolutamente short gbp usd soprattutto sul daily cioè assolutamente short ovvio la porcheria la si può anche aspettare immaginare tipo una flashata di anche 200 pipi in un giorno di gbp usd per poi riprendere la sua il suo movimento ribassista anche perché abbiamo tutto ciò che c'è tutto che ci dice che il mercato dovrebbe scendere dollaro a palla per l'euforia dei mercati per il post trump che si sono accorti fino al giorno prima era il diavolo adesso sembra diventato l'acqua santa quindi i mercati lo hanno apprezzato e anche sterline che dovrebbe depreciare eppure sterline in questo momento sta salendo vedo che stefano ha scritto che è un luogo per la donna è facile prestata in effetti sì sì beh soprattutto per il trading facebook veramente è la seconda vita è quello che una volta che cos'era c'era un gioco una volta che andava online dove uno si creava una seconda vita c'erano le città c'era tutto non mi ricordo come si chiama più facebook è diventato quello si è quello che si cerca cioè si appare ciò che in realtà nella vita non si riesce ad essere e come dici tu sono un po la maggior parte sono i frustrati sono tutti i multimilionari del trading soprattutto nel nostro mestiere è che molti ci cascano quello è la cosa che a me dispiace di più perché contribuiscono a rendere questa attività a diffondere la credenza di questa attività che sia una truffa al trading sono ridicoli perché il mondo bravo second life perché è grande sì perché il mondo gira intorno alla finanza comunque quindi però questo è vabbè fa niente un problema loro non di certo mio o di chi decide di approcciare al trading in maniera professionale e non rispondendo alle telefonate quotidiane di eccoli sì dei truffaldini che cercano di spillare gente e poveri sprovveduti veniamo al GBP CAD i livelli sono iper evidenti seguendo semplicemente il trenale il supporto di resistenza questo è il livello che mi piace di più 1.67.28 il supporto su cui poter andare a cercare configurazione al ribasso qui abbiamo rottura di livello statico dinamico quindi supporto statico dinamico vi invito a andare a vedere i miei webinar gratuiti in giro per youtube sul canale dove è tutto gratis quelli sono assolutamente gratuiti dove spiego proprio per filo per segno la mia operatività tranne la CIC che ovviamente quella invece è riservata ai corsisti rottura invece per quanto riguarda la ricerca di posizioni rialziste perché no nel livello di 1.68.80 potrebbe essere un bel livello dove cercare posizioni a rialzo euro yen per quanto riguarda euro yen è brutto che più brutto non si può sta salendo con regolarità ma si vede come come sporco nel senso che praticamente sale non sale così come da manuale vabbè queste cose qua non esistono credo più nel mercato di oggi però sale così non si vede molto bene quante volte va praticamente a rifare minimi beh questo è stato il regolare guardiamo qua salita continua minimi rifatti minimi minimi quindi va a prendere stop loss a tutto andare uno di quei cambi che è meglio lasciare forse stare siamo su livelli sicuramente tosti andiamo a dare una pulita questo per chi mi segue eventualmente la prima volta è una cosa che invito a fare c'è un'abitudine che mi invito a a prendere a mantenere pulite i grafici a parte levare tutte le cose che sono completamente inutili gli indicatori queste robe qua che soprattutto vengono vengono diciamo spiegati con un unico settaggio che secondo loro dovrebbe andare bene su tutti i time frame ed è impossibile due il grafico ci dice tutto quello che dobbiamo sapere tre a parte quello prendete l'abitudine a pulire lo schermo e rifare le analisi da zero questo non è il modo di guardare un grafico quindi escludiamo cellulari tablet tutti questi attrezzi che non vanno bene per fare trading trovate un fondo chi gestisce miliardi se fa trading dal cellulare ok e loro muovono i prezzi attenzione ma di guardare le grafico in questa maniera perché se riescono a vedere supporti e resistenze ieri parlavo con ieri sera con un corsista che ha fatto un ingresso su un cambio un ingresso che se avessero impicciolito il monitor infatti poi glielo ho fatto presente avrebbe visto una resistenza che in realtà non ha visto e quindi è entrato subito sotto una resistenza perché purtroppo non si ha l'abitudine di fare così di andare a cercare i livelli può avere un grafico così che ci dice che cosa sta sostanzialmente facendo ok provate vedrete che otterrete dei grossissimi miglioramenti di trading anche solo da quello allora euro yen qui siamo sul dele quindi ritorniamo sul nostro h1 quando parlo poi mi perdo e non scendo di time frame continuo a fare l'analisi sul time frame dove mi trovavo sostanzialmente qui ci ritroviamo in una situazione qui abbiamo anche un altro livello che rompe un po' le scatole potrebbe essere questo allora per quanto riguarda euro yen in caso di tenuta di tenuta di 117 allora abbiamo 117.31 che possiamo utilizzare sia per cercare operazioni al rialzo che per cercare operazioni al ribasso quindi la tenuta di 117.31 visto che siamo a ridosso comunque del livello lo possiamo utilizzare per cercare posizioni sia al rialzo che ribassiste ovvio è evidente che siamo in una fase di rialzo quindi il trend è indubbiamente rialzista quindi stiamo in campana un altro bel livello che ci metterebbe ancora più sicuri è 116.51 per poter cercare operazioni ribassiste un po' più sicure nel senso avere sostanzialmente una sorta di di garanzia in più o di filtro in più di un'eventuale inversione reale da parte del mercato GBP Yen c'è la sterlina che sta un po' morendo contro il dollar non si capisce più niente allora per quanto riguarda GBP Yen perfetto ci piazziamo qua direi posizionari basso con una rottura di 135.90 quindi questo livello ma esiste ancora Second Life adesso mi sono venuto i ricordi di quello non sono mai riuscito a giocarci però mi ricordo di quella robina lì che adesso esiste ancora ma sarà strapassato di moda e posizioni invece al rialzo le potremmo cercare con la rottura di 136.54 ah c'è ancora? Ma dai Euro GBP per quanto riguarda Euro GBP eccolo qui un altro grafico simile assurdo lo possiamo denominare in questa maniera beh questa mattina no ieri questo è ieri ok possiamo allora diamo una bella pulita oggi magari vado a dargli una sbirciata va grazie di avermi ricordato il nome Silvan perché proprio non lo ricordavo allora ci mettiamo qua così il livello lo andiamo a piazzare qua su H1 anche qui ok allora direi per quanto riguarda Euro GBP continua a essere brutto perché c'è poco spazio di rischio rendimento per poter lavorare quindi direi posizioni a ribasso non prima ah no è inguardabile è intradabile anche qui 0.85.16 potrebbe essere un livello dove poter cercare posizioni a ribassiste però quanto abbiamo? 30 pip con candele che sono abbastanza ampie tutte candele da 32 lasciamo stare a questo camion guardate che roba è impossibile non si può lavorare bisogna aspettare che esca fuori da questo è impallato lì non è veramente un cambio lavorabile quindi inutile dare dare indicazioni perché anche dire lavoriamo la lateralità non è pericoloso di più è capace che si impalla non si muova rimane inchiodato lì sui livelli in cui siamo adesso in realtà posizionari alto si potrebbero cercare con una rottura di 0.86.32 quello si 0.86.32 però per il resto short è impossibile non è trovabile quindi via per lo short non metto niente sul file excel che invio ai ragazzi del gruppo e via Newzino USD per quanto riguarda Newzino USD scusate il nero allora livelli ci piazziamo un attimo qua ne mettiamo uno qui è un po' sporchino che qua ci sono un po' di falsi breakout che ora ho un po' nelle scatole anche qua Newzino USD è imballato quindi difficoltà naturalmente per poter fare per poter fare trading mercato completamente imballato direi posizioni a ribasso si potrebbero cercare non maniamo conservativi con una rottura di 0.70.68 quindi dopo questa rottura si possono andare a cercare posizioni a ribasso 0.70.68 e posizioni rialziste le valuterei assolutamente non prima di una rottura possibilmente con conferma di 0.71.12 quindi il livello di resistenza che vediamo qua mi raccomando è sempre conveniente è vero Stefano hai ragione quindi rottura ritesta del livello 0.71.11 e rottura e ritesta se c'è spazio per quanto riguarda 0.70.68 ok invece torniamo adesso andiamo su audio usd questo è un cambio che come sapete saltiamo direttamente senza neanche guardarlo in realtà a parte il suo essere inguardabile osceno si potrebbe cercare niente 18 pip quindi audio usd saltiamo credo che per tantissimo tempo adesso lo vado a sostituire va con un altro cambio oggi mi metto lì oggi per fortuna l'ultimo giorno di veterinario così poi le giornate del pomeriggio le posso passare a guardare a cercare di trovare qualche soluzione a questo mercato orrendo allora sì beh qui è un livello mettiamoci così è un'area più che un livello però almeno c'è spazio per oddio per potersi muovere quando mai allora New Zealand CAD il mio New Zealand CAD che maledetto si è appena fatto 30 pip su infatti eravamo non mi piace quello che sto vedendo siamo short per carità con 180 pip di guadagno in questo momento ma quello che vedo non mi piace non riesce a rompere questo livello di supporto di 0,95 quindi direi posizione vedete che però puliamo tutto su H1 non è lavorabile anche lui stiamo ricominciando dopo qualche giorno un po' di movimento a ritrovarci in quest'area praticamente di lateralità nei giorni passati che ci crea un po' di problemi dal punto di vista operativo ci mettiamo qua così e basta e poi ci mettiamo qua così quindi direi vedete come pulendo poi il grafico cambia tutto prima non c'era possibilità di fare trading adesso se guardiamo long con la rottura di 0,95 4,42 lo si può andare a prendere e invece posizionare in basso con una continuazione una rottura di 0,95 e 11 per quanto riguarda Euro New Zealand puliamo tutto così riusciamo a forse niente stamattina non va scusate mettiamo qui un altro lo mettiamo qui e questo direi che potrebbe essere anche così ok direi per quanto riguarda Euro New Zealand è in posizione a ribasso con una rottura di 1,50 e 93 ho sospetto che 1,50 e 93 che New Zealand abbia un po' finito la sua la sua discesa durato praticamente 4 giorni lo short dopo i tassi di interesse che sia già finita la festa per quanto riguarda il dollar neozelandese anche se comunque la banca centrale che interverranno loro direttamente se necessario per evitare che ci sia la rincorsa all'acquisto praticamente di dollari neozelandesi quindi short sotto 1,50 e 93 posizione al rialzo le valuterei solo con la rottura di 1,51 e 66 mi sono dilungato troppo in chiacchiere tardissimo USD CHF siamo sulla luna quindi USD CHF direi ok qua di spazio ce n'è in caso di rottura del livello di resistenza di 1,0028 1 praticamente livello di 1 tondo 1,0027 è vero questo è dei decimali in più 1,0028 allora possiamo andare a cercare posizione rialzo c'è tanto spazio per poter lavorare non si vede qua abbiamo 60 pip per poter lavorare posizione invece a ribasso le possiamo andare a valutare con la rottura di 0,99 97 allora anche in questo caso possiamo andare a sfruttare 99,97 a sfruttare sostanzialmente lo spazio che il mercato ci dà di circa 36 pip per poter andare a prendere posizioni a ribasso audicad audicad è inguardabile uffa forca miseria allora adesso tracciamo qualche trendline se ci riusciamo ribassista però siamo lontani un po' lontani allora per quanto riguarda audicad il livello dove siamo adesso è interessante quindi una tenuta in questo caso di 1,01 e 24 potrebbe darci un ingresso rialzista quindi 1,01 non sono capace a scrivere ok quindi il livello su cui ci troviamo adesso posizione a ribasso non andremo a valutare se non dopo una rottura di 1,00 e 95 allora qua si che potremmo andare solo di cad a cercare eventualmente posizioni a ribassiste perché avremo comunque spazio per lavorare fino a questo mudo 1,00 e 65 in realtà lo short lo possiamo cercare anche sul livello stesso su cui ci troviamo di 1,0 12,48 1,0 12,48 perché praticamente sarebbe il falso breakout 1,0 12,48 1,0 12,48 sarebbe un falso breakout al rialzo del livello su cui ci troviamo in questo momento vediamo il messicano un po' si sta riprendendo sembrerebbe il messicano vedete che questo è un bel livello ce l'abbiamo qua se vedeva ad occhio in realtà è un'area potremmo cercare posizionare in basso con una rottura di 20 punto 13 89 e posizionare rialzo invece con una rottura di 20 punto 45 e 50 gold ciao Emanuele per quanto riguarda il gold dopo grande discesone dei giorni sostanzialmente subito post elezione americana vedete che adesso il prezzo qui fermo sul livello di 1227 32 poi più che un livello vero e proprio un'area quindi direi che per quanto riguarda l'intraday possiamo cercare vedete come è inchiodato sul laterale quindi massima attenzione dobbiamo aspettare una rottura con qualche conferma che può essere un pattern vostro tutto ciò che vi dà una conferma di una rottura per prendere una direzione quindi short con la rottura del supporto di 1224 punto 10 lo potremmo anche prendere e posizioni invece al rialzo del gold con la rottura di 1227 punto 32 però c'è da fare tanta attenzione perché vedete che sostanzialmente non riesce a superare il 1233 quindi davvero tanta attenzione con i massimi minimi subito antecedenti al prezzo su cui ci troviamo adesso il crude oil maledetto ieri mi ha fregato poi poi è venuto giù a tutto a tutto andare allora andiamo a pulire crudogli è arrivato è evidente che è arrivato ha andato a fare il suo bel 46 che è bello che me lo immaginavo che sarebbe andato l'air se ero provato uno shortino con poco per carità e mi ha preso lo stop una volta poi ho riprovato visto che non andavo chiuso in anticipo è andato a rifarsi quei livelli là e adesso è assolutamente da andare short a mio avviso ho fatto anche un bello studio ciclico ieri ve lo faccio vedere volante così vi faccio vedere qual è il mio trading e sostanzialmente da fare crude oil ieri era il 15 questo vediamo un po' si potrebbe essere questo si è questo qua sostanzialmente questo è beh qui è su h4 su h1 dove l'ho messo quello di ieri vabbè se lo trovo poi ve lo faccio vedere comunque sotto 45-52 operazioni ribassiste assolutamente 45 quindi livello su cui siamo adesso vedete che già sta venendo giù a palla comunque 45-52 invece posizioni a rialzo le valuterei solo con la rottura di 45-94 vogliamo essere un po' più conservativi aspettiamo questo massimo qua di 46-18 46-16 prima di cercare posizioni a rialzo che forse è meglio siamo un po' più tranquilli ciao Stefano buona giornata fa sempre così degli anni i livelli il petrolio li rispetta molto ieri era long shortare ho fatto un errore sicuramente io perché non c'erano segnali oggi invece gli sta dando perché il prezzo già lo sta dando con questa rottura uno short adesso è molto probabile che vada direttamente qui a 44-97 quindi mi sa che il mio trade quotidiano sul petrolio me lo perdo perché non faccio trading adesso mentre chiaramente sono in diretta perché non posso calcolare la size corretta per rispettare un money management quindi io me lo perdo per strada però è probabilmente che poi rimarrà 44-94 che rimane il livello che mi segno per andare a cercare comunque operazioni short magari nel pomeriggio che assolutamente ci possono stare in realtà il petrolio l'illiana non è così cattivo come sembra perché è molto regolare non fa diciamo le porcherie che vediamo adesso sulle valute occhio oggi che ci sono le scorte e quindi sicuramente ci sarà movimento nel pomeriggio per quanto riguarda il Brent è gemellino come movimenti operazioni a rialzo le potremo prendere con la rottura di 47-37 quindi cercare su questi livelli delle configurazioni e invece posizioni ribassiste le potremmo andare a cercare con la rottura di 46-42 velocemente gli indici poi abbiamo finito il MIB è qui inchiodato da ieri su 16.669 ok quindi veramente un livello tosto da superare possiamo anche magari provare a metterci in questo modo esatto quindi cercare posizioni a ribasso con una rottura dopo una rottura di 16.591 allora potremmo cercare delle configurazioni di 15.000 16.591 cercare delle configurazioni a ribasso perché no invece configurazione a rialzo la potremmo cercare con la rottura di 16.706 occhio agli indici perché sono balordi muovono veramente tanto il DAX il DAX invece sta morendo strano moriamo più noi del DAX ci muore più il DAX del nostro indice molto strano tutto ciò direi posizionare ribasso con la rottura occhio perché non c'è tanto spazio diamo una pulita che è meglio che è meglio questo dobbiamo per forza prenderlo poi ci mettiamo qui e questo dobbiamo piazzarlo allora direi per il DAX short con la rottura di 10.687.3 10.687.3 quindi questo supporto lo utilizzerei per cercare configurazioni a ribasso e operazioni a rialzo o si potrebbe prendere 10.741 di spazio ce n'è proprio poco il problema ma qual è il problema grosso è il rischio rendimento che diventa difficile da riuscire a trovare ed è importante per evitare di farsi male nel trading SP siamo ovviamente su livelli astronomici per l'S&P pulita veloce e ok allora S&P 2174.26 è un bel livello per cercare eventualmente configurazione a ribasso ma non c'è spazio di movimento quindi massima attenzione vedete che è inguardabile cioè non è lavorabile però è sicuramente interessante come supporto 2174.26 e poi per i coraggiosi la rottura dei massimi assoluti di 2184.88 per cercare posizioni a rialzo ma tanti auguri nel senso che è davvero difficile c'è tanto coraggio eventualmente si potrebbe perché no comunque andare a prendere un'operazione a rialzo fermandosi su quelli che sono stati veramente i massimi raggiunti di 2192.04 bene vi saluto vi do appuntamento domani mattina alle 9 mi raccomando oggi attenzione alle scorte di petrolio intanto la sterline è decollata sta decollando e a tutti quanti vi auguro una buona giornata ciao ragazzi buon trading ringa ringa Grazie.